allora ole buona la prima eh l'esordio nella competizione è sempre difficile una buona prova ovviamente bisogna crescere però insomma era importante iniziare col più del giusto sì importante che abbiamo vinto oggi c'è c'è da tanto da lavorare c'è da tanto di sistemare ma importante il risultato qua subito iniziare 3-0 mi sembra che è buono cioè abbiamo sbagliato un po' imbattuta in ricezione ma come sempre dico io è come sempre il nostro obiettivo di stare come una squadra uniti e quindi portare così i risultati a casa un risultato che è importante anche perché un risultato che è importante anche perché abbiamo visto in questo inizio di mondiale per club che i pronostici della vigilia poi alla fine non sono tanto veritieri eh il livello è alto bisogna giocare al massimo ma sai che pronostice è una cosa così così non devi neanche credere in queste cose boh diciamo mi sembra che tutti stanno ancora come di trovare un buon sensibilità con palazzetto perché è un po' un po' strano diciamo un po' strano e luce tutto questo è ma vabbè dobbiamo 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 sì vai vedi qua dobbiamo fare più veloce e abituarsi qua giocare battere ricevere tutto l'altro è così sì andiamo dai appuntamento per domani allora giocheremo contro la formazione di casa se giochiamo con India bravi dai un'altra volta è partita importante sempre devi venire spingere per cento per cento perché se non spingi non sai cosa può succedere quindi se dobbiamo arrivare tutti i 14 insieme con lo staff con voi con tifosi in Italia o in altri paesi e sì a fare cento per cento perché solo così possiamo fare qualcosa più grande per diciamo dopo domani bene grazie Ole